il potenza dopo Salvatore Caturano cerca un altro colpa d'effetto in attacco la società Rosso Blu starebbe pensando all'esperto Marco Sau per rinforzare il proprio fronte offensivo l'ex Benevento Cagliari e Juve Stabia dopo il triennio Sannita cerca una nuova sistemazione club dei Leoni che punta anche a Daniele Sorrentino attaccante della Reggiana reduce dell'esperienza al Monte Varchi il centrocampista Luis Maldonano è passato dal Catanzaro a Limolese oggi il centravanti ex Catania Catanzare Trapani Davis Curiale firmerà con l'immessina di Caetano Teri Catanzaro di mister Vincenzo Ionarini ha messo gli occhi su Abdul Guiebre intavolando con il Monopoli una trattativa di scambio con Alberto Tendardini più con guaio piace anche il centrocampista Davide Petterman del Foggia il Foggia ed il Monopoli si starebbero contendendo un esperto attaccante le iscrizioni provenienti da Modena i due club sarebbero su Alessandro Marotta 36enne centravanti di proprietà dei Canarini giocatore di prima fascia che ha collezionato più di 400 presenze tra i professionisti con le maglie di Siena, Vicenza, Catania e Cremonese 139 reti all'attivo per lui 139 reti all'attivo per lui